Ragazzi siamo pronti, pronti, partenza e via. Siamo con Maylin, che è sempre molto sorridente, più o meno ride per l'80% delle conversazioni. Allora, quanto è rilevante la differenza di età tra uomo e donna? Partiamo da una casistica, ossia lui generalmente più grande di lei. Sì, beh adesso in questo periodo qua non si sa più perché i ragazzi 20 anni vogliono più grandi e le più grandi vogliono anche più piccoli, cioè non si capisce più niente qua. Però nel caso che lui è più grande, secondo me è perché la donna è più piccola e ha bisogno di questa sensazione di protezione, di una persona che più o meno la guide un po' così. Che sia un punto di riferimento? Sì, anche quello. Secondo me c'è anche questo gioco qua. E che la fa sentire in crescita? Perché comunque l'uomo se è più maturo ha più vissuto ai suoi spalle, quindi se è più vissuto e ha più esperienze e quindi la nutre di più dal punto di vista mentale. Allora, secondo me dipende anche l'età matura dell'uomo. Perché ci sono uomini che hanno 50 anni e li vedi in giro che è meglio lasciar perdere perché neanche uno di 15 farebbe quello che fa lui. Invece ci sono ragazzi magari ventenne che sono molto più maturi di testa, nell'approscio, hanno un modo di vedere il mondo diverso e quindi anche lì ad esempio una trentenne si può vedere molto meglio. Cioè un ragazzo si può, come dire, si sente al suo agio come un ragazzo più giovane che come uno che magari ha una mentalità magari un po' più caucasica, come si può dire, no? E quindi secondo me è molto relativo e non conta l'età, non conta secondo me perché appunto come dicevo un ragazzo di 24 anni può essere molto maturo di testa e stare con una donna di 35, 36, 37. Non sto dicendo il mio caso, anche con l'italia. Non ho detto quanti anni hai, non lo so, non me lo ricordo. Non lo sappiamo, non lo sappiamo. Oppure una donna di 20 anni può stare con un uomo più grande, ok? Perché, allora, perché secondo me si trova meglio. La cosa è che io quello che penso è che magari l'uomo molto più grande, molto più grande di una donna, secondo me non va tanto bene, non va tanto bene, nel senso che io vedo che l'approscio di magari una ragazza troppo giovane e diciamo un po' più infantile che quello che dovrebbe avere una donna più matura, ok? Secondo me è un uomo troppo grande, fa un po' di fatica magari, che va con tante ragazze più giovane, fa un po' più di fatica a approcciarsi a una donna trentenne, quarantenne, con un cervello un po' più maturo e quindi magari va a cercare a queste ragazze che magari cercano la protezione, cercano quella persona che comunque la guida, che ancora non è, diciamo, una donna indipendente, è quello che penso. Poi ovviamente gli uomini hanno i suoi bisogni e magari gli piace proprio sentire questo, avere questo approccio di paternità piuttosto che magari la ragazza gli piace questo senso qua, però penso che comunque l'età in ogni caso non è un problema anche se bisognerebbe essere un po' più, vedere un po' gli estremi gli estremi, non essere troppo piccolo né troppo vecchio, è quello che penso. E tu, nelle tue situazioni passate, le tue relazioni già trascorse, come era la situazione dell'età? Allora, io ho avuto diverse situazioni, io ho avuto un po' di tutto, cioè nel senso che io ho comunque conosciuto, vedi, esempio classico, ho conosciuto un uomo che aveva tipo 42 anni, io ne avevo 20, ok? Ovvio che comunque là c'entra la mentalità poi della donna, io vengo di Cuba dove la donna, diciamo, di cervello è più, 10 anni in più, no? Quindi tu già vedi la visione diversa, quindi ti approcci come una ragazza di 27, 30 anni, ok? Però poi ho vissuto bene, perché comunque hai avuto i figli e tutto quanto, ho avuto delle relazioni, poiché comunque, avendo 30 rotti anni, sono stata con ragazzi molto più giovani di me, ad esempio 25, e devo dire che comunque mi sono trovata bene, perché comunque erano molto maturi di testa, quindi riuscivo a parlare, riuscivo a fare tante cose, che ad esempio con un altro ragazzo, che era molto più maturo, non lo so, la mia stessa età, un pochino di più, non riuscivo a fare, perché comunque ancora non aveva realizzato che era in questo mondo, per dire, no? Quindi le mie relazioni sono state un po' così, ho visto questa differenza, però che l'età comunque non influiva, non influiva più di tanto. Ok, e cosa ti portava, diciamo, a scegliere un ragazzo molto più giovane in determinate circostanze? Abbiamo detto che la parte mentale comunque era appagata, cioè le persone erano mature, ragionavano bene, eccetera, eccetera, potevi parlare di tutto. C'era qualche plus che ti portava a scegliere il ragazzo giovane? Allora dico, no, c'è qualcosa, tanto che serve per i ragazzi più giovani e per i ragazzi più grandi, non sembravano avere l'età che avevano, quindi quello di più giovane mi sembrava essere molto più grande, quello più grande sembrava essere più giovane, e quindi cominciavi questo rapporto, che poi dopo scoprivi che era più piccolo o più grande, e ho detto, vabbè, però, vabbè, mi piace questo, mi piace l'altro, vediamo. Quindi si cominciava un po' così. Ci sono invece tue amiche che magari sono un po' più, diciamo, selettive dal punto di vista dell'età, cioè se è troppo grande o se è troppo piccolo, lo, tra l'oltre, tagliano fuori? Eh sì, ho delle amiche che fanno così, che se è troppo grande, se è troppo piccolo, allora no, non vado, non questo, non l'altro. Si tagliano anche prima di conoscere, che questo secondo me è un errore, perché ogni persona, cioè quando tu la conosci, vedi che è un altro mondo, e quindi però ci sono ragazze che comunque tagliano anche senza conoscere. Penso che anche lì uomini sono un po' così, non lo so. Dipende, dipende. Dipende, anche lì dipende, ok? È ovvio che, per me, nel mio caso, se arriva una di 50 anni, dico, no, guarda, quando voglio in pensione, voglio avere una ragazza più giovane, no, non è una donna. Però se ti arriva la cinquantenne, che è una Jennifer Lopez, per dire, voglio vedere se la prendi o no, anche lì, anche lì, eh, perché dipende. Poi, come appunto dico, magari una di 20 anni è una che proprio non le piace fare nulla, che sta lì sul divano, amo di qua, telefono e cose, non ti dà vita, capito? Magari una molto più grande, che comunque è una bella donna tra l'altro, ha questa vitalità, ha queste cose, come se fosse la ragazzina di 20 anni, e magari ti piace di più che questa, quindi anche lì sta a conoscere le persone. Ok, va bene. Ragazzi, il centralino di Play Lover ha suonato, adesso andiamo a vedere se c'è qualcuno. Cercheremo di vendergli una consulenza, un corso, un videocorso, qualcosa. Un saluto e alla prossima.